Un risultato considerato senza precedenti nei fallimenti è quello arrivato ieri per gli obbligazionisti della De Julemar. Chiuso infatti l'accordo con la Banca Maltese per 180 milioni di euro. Non è mancato il plauso alla curatela che ha gestito l'accordo transattivo che consentirà di distribuire il ricavato netto tra i creditori. Un obiettivo raggiunto che arriva dopo dieci anni di lotte e sofferenze per un crack che ha messo letteralmente in ginocchio l'economia di Torre del Greco. Secondo il comunicato diffuso dalla curatela si prospetta ora la possibilità di eseguire un consistente riparto in tempi rapidi. Il plauso più forte va fatto alla curatela, agli avvocati e anche ai gruppi di obbligazionisti che non hanno mai abbassato la guardia. Questo è un risultato che non potrà mai sicuramente soddisfare a pieno per chi ha visto uno schiaffo e un tradimento così forte e ha subito delle sofferenze in questi anni importanti. Ma se andiamo ad analizzarlo per quello che è il risultato che storicamente si può ottenere da un fallimento, arrivare a una transazione che restituisce il 50% di quello che era l'oggetto della transazione BOV è un risultato per cui fare di nuovo un plauso a tutto lo staff legale che si è occupato a partire in primis dall'avvocato del notario Stefani che ha fatto un lavoro egregio se si contestualizza con quelli che sono i trend storici dei fallimenti. Adesso come si procederà con il riparto? Il riparto è sempre in capo alla curatela che dopo aver ricevuto il bonifico dalla banca mettere in campo tutte le procedure necessarie e si augura in maniera molto concreta che entro l'ultimo trimestre possono essere anche erogati agli obbligazionisti quanto di competenze e quindi magari sarà un Natale con un ristoro parziale di quelle che sono le economie sottratte illecitamente alla nostra città. Una vertenza da sempre eseguita e attenzionata dal Movimento 5 Stelle. Il dramma di Ulemar si è confrontato ad altri crack come quello Parmalat per fare un esempio più prossimo ha delle proporzioni simili se non maggiori se andiamo a contestualizzarlo alle 13.000 unità torresi che sono state coinvolte. Noi in prima linea abbiamo cercato sempre di provare a mantenere alta l'attenzione e non smetteremo di farlo perché comunque continueranno le audizioni nelle commissioni parlamentari e quant'altro. Agnello Ferro, grande la soddisfazione degli obbligazionisti per il risultato raggiunto ieri? Assolutamente sì, la soddisfazione è stata tantissima, però il nostro primo pensiero è andato a tutte quelle persone che ci hanno accompagnato per tanto tempo nei vari processi a Roma e noi siamo venuti qua una volta che abbiamo organizzato un pullman con una trentina di persone, diciamo una lista delle persone che sono andate via e a loro nome noi siamo andati a Roma proprio per questo spirito qua, due pullman pieni di gente entusiasta e queste tante persone che abbiamo lasciato qui con il cuore perché sono andate via prima del tempo. Dopo dieci anni di sofferenza per questa fertenza arriva finalmente una bella notizia. Assolutamente sì, questa notizia ha riservato nei nostri cuori una speranza per il futuro di Torre del Greco perché non dimenticiamo che Torre del Greco era collassata, era morta per tanti negozi chiusi, non riaperti più, un'economia ferma, stagnante, tanta gente senza posti di lavoro, rinascerà di nuovo Torre del Greco perché questi soldi quando arriveranno si muoverà tutta l'economia, la gente ritornerà a spendere, incomincerà a riempire i negozi, i ristoranti, i locali, incomincerà a rivivere Torre del Greco e noi vogliamo rivivere Torre del Greco. Grazie.